Ok, come potete vedere dal grafico, quasi il 50% di voi non è iscritto, quindi iscrivetevi ragazzi Ok, scusate, ora Allora, ciao a tutti e benvenuti in un nuovo episodio di Paper Mario Paper Game King Oggi continueremo da Bosco Bisbiglio a, il secondo, c'era, si no, ok A prendere origami, eh sì, prendere coriandoli e origami eccetera Comunque, ecco Prendo un po' che non facciamo la battaglia, cioè sì ma no Cioè sì perché da un giorno, ma no perché alla fine nel gioco tipo una trentina di minuti credo Se poi andate a vedere il video saranno anche 15 perché sì Non ho tagliato nessuna parte, ve lo dico, ve lo dico Non ho tagliato nessuna parte nello scorso video perché non avevo voglia e perché mi sembrava abbastanza buono Non c'era niente da dove tagliare In questo video l'ho dovuto ricominciare perché era passato mio fratello e poi c'era un'altra cosa che non ricordo Ho capito Fermi il secondo Scusate colpa mia Era successo una cosa, vabbè Oh perfetto Un po' scomodo sto su questa sedia ma va bene così perché sto più scomodo con la mascherina Cioè c'è una mascherina strana, normalmente sto abbastanza comodo con le mascherine Però sapete com'è impossibile trovare quella perfetta O c'è quella con i peletti che danno sempre fastidio alla pelle O sono quelle bianche strane che c'hanno tipo così al gusto che così Praticamente non da mettere così ma da mettere così dietro E danno sempre impossibile Passiva Vabbè avete capito Ok Ok Ho capito C'è bisogno che lo dici Oh perfetto Pure ha detto like Poi non mi sembrava che lo dicesse Però Vabbè Ok Bostanza Bostanza alto il bonus Bostante ciò Bene perché non ho voglia di stare tutto il tempo a perdere A perdere tempo a colpire gli alberi Lo avete capito Alberi, arbusti eccetera E io c'è spogli, alberi eccetera Oh E quindi Scusate Era un'impresa Il personifico Avete capito cosa intendo No Non devo farlo Stavolta non mi freghi E Trucco così Giusto per fare Che a volte da aiuto In questo caso no perché Non so se a vita Oh no Non riusciremo mai Non solo Non solo mossa Oh no saremo morti Vorrei dire che comunque in due turni ci fanno meno danno di quanto In quanto ce ne possono fare Dei mici forti Quindi Beh non credo sia un grosso problema E comunque Non è che moriremo scusate Vabbè a volte Sbagliare va bene lo stesso Perché avete appunto fatto il primo Avete colpito appunto il primo Ma quindi non c'entra niente Però Sempre quindi Vi sconsiglio di abituarvi Anzi Se non sbaglio Per una Uno o due trofei Servono appunto Come si chiama Proprio quello serve Scusami albero Però ti devo colpire Serve proprio a fare i fantastici Sono delle monete Non sono sicuro Dei fantastici Però è probabile Spera un secondo Non fare una cosa Ok Sono Un altro Un secondo Scusami Se vado avanti Inietro Però E' una cosa E' anche tu non fai A meno drammatico Capito che sono Un altro Ma Sono sempre Un altro Cioè 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 Stavo con i miei feghi Questa pessima scelta di Togliere il Abbi Cioè praticamente Quando preparavate Non so se è solo in Undertale Però A me non sembrava Però In certi giochi Praticamente Premevate Abbi E poi E vi skippava Direttamente a dialogo Cioè Ve lo facevo andare avanti Tipo se siete più veloci A leggere O se non avete voglia di leggere Perché sapete già la storia Completamente O perché Vabbè Avete capito Oh no Mi ha ucciso Non ho fatto Invece Perché Ah perché 14 Sì ho capito Ah Una cosa Tanto perché Per dare un consiglio Nei 100% 102% H Perché Non so Voi Specificare Non fissatevi troppo Gli obiettivi Andrò a fare Tutto quello In X O Andrò A Trovare tutte le cose In X tempo Soprattutto se È la prima volta Che ci andate Cioè Cosa intendo È Se voi tipo Dovete Andare A Bosco Bisbiglio A prendere tutto Non fatelo Perché Già da lì Stete facendo Un errore Da Bosco Bisbiglio Non si può Prendere tutto Fino al Quarto Quinto Capito Forse Forse Sarà il quarto Però insomma Avete capito Il punto è Che è una pessima idea Perché due cose Comunque non le potete prendere Quindi Cercate di prendere Il più possibile Ma Non Non cercate di prendere Tutto 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 Cioè diciamo Il 90% Va già bene 95 Ok 97 e mezzo È molto buono Ma non di più Perché Anzi Già il 97,5% A volte sono anche A volte è anche troppo Però In genere Lì Delle cose Basta Il 97,5% Perché Quella 2,5% Quella percentuale Che manca La prenderete Più avanti Tipo Quando Non so dire Non salvo nemmeno Perché è uguale Tanto non si risalva Vabbè Avete capito Ma è tipo morto Che è dietro Tipo Come posso dire qua Qua Oh mamma Io non posso guardare Un po' che io la dirò proprio male Se è il lavoro di un lavoro di un familiare è andato male Ma basta con questa Questa metafora di similitudine E roba E roba di poesi E grammatica E scusate letteratura Non c'è voglia Sto video E un video E un video Stupido Troppo che sono Se è un video E per all'idea Non potete evitare Il capitolo che se Anziano E se è un senso E se è un senso Guarda in fondo All'atto Anima E capirai Che Vabbè Avete capito Vabbè gioco 9 e 17 perfetto lo fa una cosa no cioè l'unica volta che ho barato tra virgolette perché non è che si può dire barare lo possono fare tutti Paper Mario dei Rigami King è stata una volta ma non la prima volta, la seconda volta del 100% che era molto molto difficile e quindi aspettate la seconda e quindi a un certo punto per non sbagliare in un quiz ho detto guardiamocelo su Youtube che non ho voglia di aver fatto mille cose impossibili tra l'altro aggiungerei per poi non infatti il gioco in se per sé non è difficile è anche un giusto giusto non troppo difficile però neanche per il primo maestro che sta per paragone per paragone e la domenica è troppo alto vabbè comunque si no per caso una scritta anche sul retro non pensa proprio ok ora credo che alla larga a meno che non voglia testare qui per sempre in che senso dritto diritto no dritto diritto diritto al sotto non ti pare eh si mi hanno fatto con il regno di uno dei rami di nono fusto non si butta via niente tutto si ricicla l'ambiente va salvo ottima scelta di aver dato un tocco ecologista a questo cartello perché proprio il pianeta ne ha bisogno stavolta non ci casco c'è qualcosa qua non mi ricordo eh volevi nasconderti ecco tre volte su tre che ho provato a fare questo walkthrough andava sempre nello stesso modo ehi ma cos'è quello là in mezzo di spuglio sembra una specie di faccia ho un brutto presentimento sono Todd mamma mia come così che sono fatti Todd wow me li immaginavo tutti diversi perché sono tutta appalatorata dai aiutatemi non lo so sei molto fastidioso ok si ci serve per il 100% stupido Todd ora va un po' meglio adesso mi spieghereste un po' ok non lo voglio non lo voglio rileggere anche quella voce perché si capite cioè ok almeno per una volta ci sostengono fanno qualcosa di utile sì ci mancava il prezzo no c'era qualcosa no non c'era niente scusate che non voglio mancare niente che proprio per questa furia tra virgolette vado a dimenticare certe cose non nella memoria però nel senso vado a dimenticare nel senso non ricordo di farle a finisco 12 minuto dubbio grazie ma no devo averci punto em totale qui è dubbio il vivo vabbè avrebbe avuto senso no si si può spostare più di un cioè si si può fare un giro e allora cosa sta roba il drift cos'è cosa vabbè vale chi ha il no ma non si sta qui senza tolto parla anche roba strana ok forse non avrei dovuto staccare l'autoparlante sinceramente per il gioco e per la musica vabbè intanto siamo vicino a un altro dove mi fa solo la sito c'è musica per le mie orecchie scusate è una battuta però vabbè non si si vanno danno tutti gli hp o pv o p s perchè cosa posso dire anche vabbè perchè ripristina tutti non sono cinquanta altrimenti si ok non volevo avvicinarmi troppo perchè sennò sarebbe stato un errore dico soltanto scusate comunque già soltanto il fatto che facendo 9 di danno che si magari potrebbero essere anche migliorati grazie alla trasformazione di reoli di hp però non troppo cioè per sbagliare io anche sbagliando li uccido subito in gumba per dirvi si è come ucciderlo se ve lo chiedete è un peccato già però non ci puoi fare niente e e anche tu e anche ma si si se se vicino a dove devono stare c'è un non bastano leggermente non vado a tornare indietro per i cosi sprecati non sono sprecati come se ritornino dentro automaticamente solo che non ve lo fa vedere si questo non lo sapevo io poi l'ho scoperto ed è stato molto più facile c'è siamo stato peso sulla coscienza tolto però 6 non è che cammesse molto però stavolta non dimentico perché c'era qualcosa un po' infatti tot ci sono tutti tranne uno sempre ai blocchi si però saranno tipo il macro sempre uno perché deve sempre bancarne uno no quindi scappi strambi e poi un'altra cosa ah i blocchi si e i tesori no 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 no ah si si ok pensavo se questo dovesse fare in più modi no la terra è solo uno vabbè spiro in questo 4 non voglio di correggermi ci sarà da respirare a lungo dove devo andare ah qua si no stavolta non farò lo stesso errore non non ne ha 36 36 60 fps vabbè circa andrebbe bene anche 30 no in realtà non sarebbe un po' beh spero sarebbe meglio comunque 30 di quanto è ora 22 infatti sapevo ah mi sono dimenticati ecco dimenticavo questo si raggiunge ah allora si può ah allora manca vabbè strappistrami pochi tesori blocchi tesori blocchi mancano 3 credo o o 6 dipende vabbè mmm oppure credo se questo sia l'ultimo ma non ne sono sicuro oh meno male oh ok quindi due cose e no ok tre no però però le altre due comunque non siamo lontani diciamo sì perché ho esaminato vabbè vediamo ho preso tutto prima di uscire eh uno e non mi fido ma alla fine voglio cioè non mi fido ma mi fido cioè è un concetto un po' difficile da spiegare cioè so che sono che uno manca ma 83 in genere è sempre sì eh sono sì è abbastanza probabile che ne manchi uno ma non abbia visto bene ne ho visto uno ne ho visto uno meno male che ho controllato scusate però cioè eh ah però non posso non posso mancare anche soltanto un po' perché se no ci metto tre ore poi a ritornare anche se ci devo ritornare ma è una volta che sarà vabbè quanti ne mancano ora 91 6% non mi fido ancora 2 2 1 so che quello la e lo sa è bassa non mi fido io riguardo raga non sono sicuro non mi fido di me c'è circa il 1% eh sì 21 21 minuti eh sì ci potresti comporre canzoni ma non ho voglia ehm non è che magari ce n'è no io non lo so ma sta andando lento anche lì o ma ce l'ho io ok lei mi dice che non posso entrare sono sicuro che ne che me ne manca un altro ma non ma non non so dove no non lo leggo perché non ha senso cioè capite vabbè eh ne mancherò no aspetta un secondo no in realtà avevo ragione perché 3 più cioè 91 e 83 fa 8 8 sì sì quindi 99 però sarà quelle virgola 9 9 9 che fa 100 quindi in realtà mi sono fregato da solo perso 2 minuti vabbè non sarà così tanto siamo già a 23 minuti e 9 secondi all'incirca quindi tra poco finiamo però ancora il tempo ce l'ho diciamo 18 0 3 quindi ancora il tempo ce l'ho meno male intrusori e intrusori 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 la grammatica italiana raga vabbè spero non sia non sia bassi fps anche se in realtà che lo vuoi non si può ma va ma va scorrere era difficile è una parola difficile ragazzi oh difficile già ora non voglio dire niente e so che all'inizio sarò io un po' ipocrita e dire ehi tutorial sono inutili e in realtà sono utili perchè senza quelli proprio nessuno saprebbe niente però allo stesso tempo questo è esagerato cioè raga davvero devi dirmi pure quello che già so si sarà un figlio diverso ma quello 0,0% ma che deve cambiare tutto il gioco ok non so perchè l'ho esitato vabbè comunque credo che da qui in poi inizia a scendere la curva quale curva la curva dei dialoghi cioè praticamente è inizio in alto e poi diventa bassa e poi tipo si abbassa e diventa bassa nel senso che ci sono tutti dialoghi in confronto a quanto tempo facciamo dico il che è buono perchè i dialoghi a volte possono annoiare però ovviamente servono perchè senza sarebbe non sarebbe una RPG dove siamo? ah borgotodo ve l'avevo detto spoiler non ve l'ho detto spoiler però ve l'ho detto che facevo spoiler quindi in teoria si posso dirlo quindi si era lo spoiler però non proprio tanto ci siamo quasi e se andate a controllare il borgotodo quindi in teoria no come l'ho detto c'era? no che non c'è niente no mmm ok 26 minuti credo che dopo aver sconfitto una cosa capite cosa poi finirò che poi c'è pure il blocco tipo wow c'è un blocco là perchè non lo colpisci tipo quando ci sono tipo in Mario più al centro di Bowser insomma o era oddio non mi ricordo no no sì sì era al centro di Bowser tipo Mario lì già al centro di Bowser che c'erano oh no fai attenzione al su pugno letale che quando farà questo è un tutorial però il reverse cioè è un tutorial tutorial un bluitorial si perchè tu è a te e lui è a lui e quindi al giocatore da parte sua non al cosa è difficile? assolutamente no è divertente? assolutamente no sarà difficile finire eh si l'ho già detto vabbè avete capito si è funzionato non mi dire scusate se sto facendo diciamo che dico oh no ma l'aspettavo un po' nella realtà sono ironico però però effettivamente se ci esagerano non raccolgo più di così perchè se no poi sono speccati in teoria ok credo che ci sia qualcosa da dentro ma non so sicuro qualche strappo volevo dire cioè intendevo oh meno male non c'è un mostro eh scusate colpa mia stavo ancora pensando ad Undertale sì in questi giorni ho messo di contatto l'advertenza ve lo chiedete 28 minuti che allora finiamo le ultime cose cioè le ultime le prime cose cioè vabbè è inutile andare fino a che non abbiamo bloccato il prossimo punto come possiamo dire ma è proprio al cento vabbè vabbè con un borgo in vaso dai soldati caratteristiche ah secondo me e durerà i assassin vabbè però ce la farai anzi ce l'hai già fatta come ti metti non avrei coperto vita ma è una torcia va bene ma sono al secondo no che non sono al quarto noi che se sapendo era al secondo episodio e avendo ne fatto due stavolta pensavo pensavo fossi al non posso dire pensavo fossi al al quarto invece al quale terzo ok qua nessuno qua c'era quale cosa infatti vabbè stiamo arrivando ai 45 minuti ai 30 minuti anzi ci siamo 39 secondi quindi io salvo e no non sto cercando di farlo apposta ci vediamo al prossimo episodio ciao ragazzi